Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, scusate un po' l'assenza dal canale, però è stato un mese abbastanza intenso e niente, vi porto questo nuovo video, un po' diverso, sono a Sestri Levante, oggi è venerdì, il video probabilmente uscirà sabato spero, se riesco a dittarlo in tempo e sono qua a Sestri per fare una gara di enduro, la enduro winter trophy e volevo portarvi un po' le speciali, come sono e spero che vi possa servire questo tipo di video ma niente, andiamo subito, non perdiamoci in chiacchiere Eccoci alla prima speciale, questo è il sentiero Sant'Anna, la prima parte che sto facendo adesso si chiama I Cani è abbastanza stretta e c'è anche un po' da trarare, vedrete e sono insieme a Gaminara che però già mi ha staccato e niente, è da tanto tempo che non la faccio, quindi non mi ricordo assolutamente niente sto andando assolutamente a vista ed è tutto molto scivoloso perché essendo sotto bosco ha piovuto un po' i giorni scorsi, c'è un po' di umidità quindi si scivola veramente tanto e... sarebbe stato meglio studiarselo un po' di più questo però, siamo qua piccolo tratto da rilanciare un po' noioso però Let's Enduro Gamma è già a lanciare sfide Grazie 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 Queste radicine di riuscite di curva non sono il massimo Anche perché si hanno le gambe anche un po' provate, dure, e ti scombustolano un bel po', ti scompongono. Linea alta di cuore, pergame. L'entrata è molto pianeggiante e non veloce, quindi non è proprio adatto al mio stile di guida. Ci sono poi questi rilanci, abbastanza duri. Mentre invece poi, come vedrete, la seconda parte è molto molto divertente, veloce. Lì qualche volta ci sono venuto a girare con la bici a discesa perché è veramente uno spettacolo. Eccola qua, inizia qua. Ci sono anche qualche saltino. Gambe ormai un local qua. Il terreno è strano. Anche qua è scivoloso la parte in cima. E non è che sia molto facile fidarsi. Qua poi si va abbastanza forte. Se scappa nel veloce non è il massimo. Dopo quella parte in toboga molto veloce, abbiamo questo pezzo in piano. Che si arriva però con un po' di velocità, quindi non dovrebbe essere troppo duro. Però tanto semplice non è. E si sprinda un po' perché in fondo c'è un doppietto da fare. Che gamba che ha la game! Qui non riesco a parlare molto perché mi devo impegnare a seguirlo. E mi sa che in realtà si mi stacca anche. Mamma mia Gambe! Che caldo! Come vedete è molto bello questo sentiero. Veloce, tiene un buon ritmo. Ci sono delle belle compressioni. Infatti quando vengo qua a girare faccio praticamente solo questo. Anche con la biscella discesa. Però ricordarlo è un'altra cosa. Questa è un'altra cosa. Questa è un'altra cosa. Così. Questa è un'altra cosa una piccata. Questa è una volta! Grazie. Ok, questa era la prima PS, non male, arriveremo qua già distrutti, mi sa, però, ma che bel posto! Ok, qui siamo alla Speciale 2, che è bianca, e vi faccio vedere un po' come sono le linee e com'è. La prima parte è molto tecnica, abbastanza veloce, però... C'è da stare attenti se scegliere bene le linee. Poi c'è questa parte qua, molto veloce e pianeggiante, che non bisogna frenare troppo perché se no, tipo qua, sbaglio, esco lungo e si perde un sacco di velocità. E adesso poi inizia una parte un po' più tortuosa, che personalmente non mi piace tanto, anche perché è sempre molto vicida. Questo tornante è super vicido ed essendo all'ombra le pietre sono sempre molto vicide, quindi come avrete capito è un sentiero molto vicido. Qui c'è un traverso un po' esposto, curva destra per attraversare il fiume e un altro pezzo un po' veloce. Le pietre sono veramente vicide, bisogna andarci sopra abbastanza con le ruote dritte perché se no si rischia di darci delle belle facciate per terra. Pezzettino in piano, abbastanza stretto, piccolo anticipo e adesso inizia una parte piena di tornanti. Ciao! Questi tornanti sono veramente insidiosi, specialmente questo che io faccio con un piede giù perché non mi fido molto. Altro destra-sinistra Tecnicon con queste pietre molto smosse e scivolose. Si riprende un po' di velocità per poi riformarci in questo tornantino. Altro pezzo scassato di pietre. Drop. Strada diciamo strada romana, piena di ciotoli, non facile andare forte, piena di pietre smosse e poi c'è questo pezzo da pedalare che ci mette nell'ultimo dritto prima del traguardo. Un po' dritto che anche qua non è semplicissimo e qua dovrebbe esserci la riva della speciale. Quindi anche speciale numero 2 fatta e vi porto poi alla 3 che si chiama Mimose. Anche quella è una speciale che non faccio da un po', però è sullo stile di Sant'Anna diciamo. Ok questa è la PS3, dovrebbe essere l'ultima. Inizio con questo tratto molto veloce che si chiama Toboga e si fa veramente una velocità esagerata. Quindi penso che mi concentrerà a seguire questa bomba di gamenare e non parlerò molto. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. 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 Mamma mia, questa gamenara è veramente scatenata qua, che anticipo! Scusate se non parlo, ma sono veramente un po' a tutta! Lui invece sta giocando, a quanto sembra, guardatelo lì! Scusate! 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 E niente, questo è un percorso abbastanza carino e non è facile trovare il ritmo perché ci sono un sacco di chicane, di pietroni da passare, il problema è che alcune di queste le hanno lasciate aperte, altre chiuse, quindi non si capisce bene dove siano i tagli oppure no. Che poi se le lasciano aperte non è tanto questione di taglio piuttosto che di linea, è proprio scegliere una linea diversa, il fatto è che se alcune li togli, alcune li fettucci, allora li devi fettucciare tutti e questo io veramente non lo capisco, poi io vengo dalla discesa che tutto è fettucciato e tutto è come è, cioè la pista è quella, punto, e chi sceglie le migliori traiettori e poi vince. Però detto questo è comunque un percorso abbastanza carino. bellissimo sentiero, sarà bello duro in speciale perché è lungo e molto pedalato, qui hanno deviato dalla traccia originale, però tutto sommato è bello ecco, la gama è sempre forte, comunque, in queste gare, visto che non si è provato tanto, cioè anche i gama che del posto non le sa a memoria, come avete visto adesso si scelgono delle linee nuove proprio provando, e la capacità sta poi nel ricordarsene e farle in gara. E quindi si conclude qua il check delle piste e spero che vi sia piaciuto e spero di andare decentemente domani, anche se come ho detto la prendo abbastanza come un allenamento. Mettete un like se non l'avete ancora fatto e iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao!